Local Color di Ischia, che ieri incantarono l'alta società, oggi vestono internazionali jet setter e donne impegnate nel lavoro. Come Alessandra Mastronardi, uno dei volti cinematografici italiani più conosciuti all'estero, ospite dello show in abito giallo limone, che avrebbe fatto la felicità di Truman Capote oggi come allora. È come se fossimo tornati un po' indietro nel tempo, quando i produttori cinematografici venivano qua a Ischia e la Dolce Vita si trasportava da Roma alle isole campane, quando Richard Barton e Liz Taylor venivano a girare qua a Cleopatra, per esempio, e venivano nei meravigliosi alberghi ischitani. Insomma, siamo un po' tornati alla Dolce Vita. È stato molto bello, devo dire grazie a Max Mana per questo.